Il giudice amministrativo nell'amministrare la giustizia in realtà ti consente a mio parere anche di declinare un modo nuovo di concepire anche dal punto di vista della giustizia e quella l'amministrativa il rapporto tra cittadino e ambiente. Per tutto quello che ci siamo detti prima che cosa emerge? Che l'ambiente è veramente il nuovo orizzonte sul quale il mondo si sta cimentando. A maggior ragione l'Italia che è la patria del diritto ovviamente deve avvicinare il mondo del cittadino col mondo della giustizia. Il giudice amministrativo che sia del Tarro che sia del Consiglio di Stato è quel giudice che declina queste cose e che quindi in un certo qual modo nel fare implicitamente giurisprudenza ti consente anche di meglio orientare questo sistema. Quindi la politica guarda sicuramente anche alla giurisprudenza perché è la declinazione concreta della visione politica. Io vengo volentieri.